Un anno di indagini per arrestare sette persone, tutte residenti tra peschici e vieste, responsabili di spaccio di droga, detenzione e porto abusivo di armi, ricettazione e furto. L'operazione denominata Grecale, svolta dai carabinieri della Compagnia di Vico del Gargano e coordinata dalla Procura di Foggia, si è focalizzata su alcuni malviventi vicini al gruppo dei Raduano che avevano conquistato una remunerativa piazza di spaccio, movimentando in genti quantitativi di stupefacenti di diversa tipologia. Oltre ai fratelli Cristian e Domenico Pio di Milo c'è il 35enne Giovanni Surano che a maggio scorso viene arrestato dai carabinieri con più di 20 chili di droga e una Santa Barbara composta da Kalashnikov, un fucile a pompa, 5 pistole, oltre a 280 cartucce, un ordine artigianale e un drone utilizzato per il controllo dell'area circostante alla propria abitazione nel centro storico di Vieste, dimostrazione questa della spregiudicatezza e dello spessore criminale del gruppo arrestato. Il valore della droga sequestrata nel corso degli ultimi 5 mesi d'indagine aveva un valore complessivo di 240 mila euro, il giro d'affari stimato era di circa 100 mila euro mensili. Notevoli guadagni arrivavano poi anche dai furti all'interno di note attività commerciali e dalla ricettazione di circa 5 chili di posate d'argento rubate in un'abitazione di peschici e di una bici elettrica rubata ad una turista tedesca.